A proda anche a Biella il Paxlovid, la pillola anti-Covid prodotto da Pfizer. Già a venerdì scorso la cura è stata prescritta ad un primo paziente della provincia di Biella. Adesso abbiamo a disposizione un certo numero di armi per l'attivazione di terapie domiciliari che possono essere assegnate in base alle esigenze e alle caratteristiche del singolo paziente. Così ha commentato Laura Lanzone, direttore della farmacia ospedaliera. Sono trattamenti efficaci e specifici, approvati da AIFA per la terapia del Covid. Si amplia così anche nel biellese, come spiega una nota mandata dall'ASL, la rosa dei farmaci per il trattamento domiciliare su soggetti positivi al virus. Questo nuovo farmaco antivirale, che ha un'efficacia dichiarata dell'89% nel ridurre il rischio di formi gravi della malattia e ospedalizzazione, è indicato per il trattamento di pazienti adulti con condizioni cliniche concomitanti che rappresentino specifici fattori di rischio per lo sviluppo di Covid severo. Così ha dichiarato Claudio Sasso, direttore sanitario dell'ASL. Il problema, sia degli antivirali che dei monoclonali, è che è necessario avere una diagnosi il più possibile precoce nei primi giorni della comparsa dei sintomi, per cui l'invito per chi è stato contagiato e ha altre malattie in atto è quello di rivolgersi fin da subito al proprio medico curante, che con il supporto dei medici USCA può valutare la necessità immediata di terapia ed avviare il paziente al trattamento. I fattori di rischio necessari per accedere ai trattamenti sono patologia oncologica in fase attiva, insufficienza renale cronica, broncopneumopatia grave, immunodeficienza primaria o acquisita, obesità, malattia cardiovascolare grave, diabete mellito non compensato, ed ancora epatopatia cronica. La selezione del paziente è candidabile alla terapia affidata ai medici di medicina generale, pediatri di libera scelta e in generale ai medici che abbiano l'opportunità di entrare in contatto con pazienti affetti da covid. che poi avviano la procedura di segnalazione all'ambulatorio di malattie infettive diretto dalla dottoressa Anna Lingua.